All'ospedale Spallanzani di Roma sono iniziate lunedì 8 agosto le somministrazioni di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. I casi registrati in Italia al 5 agosto sono 545 e le richieste di prenotazione del vaccino in un solo giorno sono state 500. Tra le categorie a rischio indicate dalla circolare e del Ministero della Salute c'è il personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a ortopoxvirus. Le persone omosessuali, transgender e bisessuali. La campagna vaccinale inizierà invece in Lombardia a partire da giovedì 11 agosto 2022 con circa 2000 dosi destinate alla regione.